e anche oggi ragazzi ci vediamo qui al laghetto dell'euro a fai qualche intervista a natale bella a tutti ragazzi sciocari benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti benvenuti ragazzi oggi come avete visto dal titolo del video anche oggi che è natale vi delizierò con qualche intervista un po di gente che sta qui al laghetto dell'euro perché stiamo sempre qui al villaggio di natale qui all'euro infatti come potete vedere anche da qua dietro lo sfondo ci stanno un botto di gente di cose anche oggi che la vigilia di natale ma voi lo state vedendo oggi che è natale quindi ragazzi iniziamo con buon natale a tutti voi scrivete qua sotto nel commento del video anche voi un augurio di natale a me o a tutti gli altri ragazzi scrivete qua sotto nei commenti buon natale sì dai 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 che oggi è natale siamo tutti più 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 felici e più contenti quindi iniziamo subitissimo a fare queste interviste a chiedere alla gente il loro natale dove lo festeggiano dove lo stanno festeggiando e soprattutto quanto hanno speso per il regalo di natale più costoso e chissà quanto hanno speso quanto avete speso voi scrivetelo invece qua sotto nei commenti quanto avete speso per il regalo di natale più costoso che avete fatto quest'anno o se quest'anno non avete fatto il regalo di natale gli altri anni però soprattutto se l'avete fatto quest'anno quanto avete speso il massimo per il regalo più grosso fatemelo sapere io invece lo vado a chiedere a loro che stanno qui al villaggio di natale albicocca ci sta sempre bene allora dove passerete il natale a salerno a salerno a salerno devi andare sì ok perché c'è i parenti lì ah perché tu sei di salerno più giù in realtà però c'ho altri parenti a salerno a salerno ok tu invece dove lo passerai tu qua a roma senti ditemi quanto avete speso il massimo che avete speso per i regali di natale quanto è la cifra più alta che è speso per un regalo 20 euro penso bene 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 tu invece una quarantina 40 e t'ha superato un po' più di un po' più di un po' invece il più economico invece economico sui 10 euro 10 quindi stiamo sempre là 10 20 e si è risparmiato è un po t-rex dice sia un po t-rex è un po tirato invece il più economico 5 euro 5 euro anche tu tu pure tu bello t-rex e dove passerete il natale domani o comunque oggi che lo state guardando oggi dove state a fare il natale io lo passerò a casa con la mia famiglia tu invece a in sicilia vabbè me separate oggi come tra se scelta siciliana tra le scelte la famiglia giù quindi se un questo un po è un po lo spoiler per te il regalo più costoso che che hai speso quanto è stato questo regalo costoso è quest'anno un paio di scarpe ho fatto le air force 1 120 euro niente di che però buono ci sta ci sta mi piace mi piace e tu invece il più costoso se ne hai fatti i regali è eh non lo so penso tipo pure io le scarpe mi sa 90 euro dai forse queste qua dai quali fa vedere belle ci sta ci sta ragazzi ci sta voi invece commentate qual è stato il regalo più costoso che avete fatto invece il più economico qual è stato se è il più economico fammi pensare ho fatto dei ferrero rossierro 8 euro però comunque molto carini ci sta da mania va sempre bene da mania va sempre bene invece te il più economico penso tipo 4 euro la creava per le mani te stava proprio sul cazzo sta persona allora allora dove passerete il natale oggi o domani perché lo state vedendo oggi il video quindi dove state a natale a casa a casa dove di mia zia e di mia mamma ma qui a roma ok tu invece dove lo passerai a casa mia hanno lo passato insieme natale domani e domani lo passate insieme domani lo passate insieme ecco senti dimmi questo è un po spoiler anche un po per te il regalo più costoso chi hai fatto quale sta quanto hai speso 40 euro 40 euro tu invece 50 50 invece il più economico quello proprio a meno soldi che speso 7 euro che prese 7 euro un 16 non 16 spoiler spoiler invece il più economico quale sta quanto hai speso 6 euro 6 euro 6 euro quindi ragazzi poi ho detto scrivete qua sotto nei commenti quanto avete speso per il regalo più costoso o più economico che avete speso fai di fatto al regalo e cosa avete fatto tanto ormai l'avete dato il regalo di natale fatemelo sapere qua sotto nei commenti e you were you going to the christmas day in roma in roma dove a roma qui a roma ok quanto hai speso per il regalo più costoso che hai fatto 30 euro 30 euro e tu invece you how much quanto hai speso 100 euro 100 100 e ci sta a vedi già è meglio già è meglio già è meglio già è meglio io sono ignorantone raga è sono ignorantone e invece il più economico il più economico in realtà il più economico è una cosa che ho fatto proprio ci ho fatto proprio un dipinto e quindi non è che c'ho speso tempo c'ho speso tempo quanto tempo allora quanto tempo? eh c'ho due giorni due giorni e ci sta ci sta quello più più fatto a mano diciamo è fatta quindi tu sai dipingere è grande ci abbiamo anche un artista invece tu il più economico 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 quanto adesso? 5 euro 5 euro vabbè è normale è un prezzo normale è un prezzo normale voi quindi ragazzi scrivete avevo oggi proprio internazionale anche se sono ignorantone con l'inglese scrivetelo voi nei commenti qua sotto il regalo più economico quanto avete speso ragazze dove passerete il natale? qua a roma tu? a casa con i nonni sempre qua a roma? ok ma non insieme? no ah non insieme senti dimmi il regalo più costoso che hai fatto quanto quanto hai speso per il regalo più costoso? 25 euro 25 euro ok tu invece? ho speso tanto tempo per fare dei regali li ho fatti io tanti economici con tanto tempo fa me capire ok quindi non sai dirmi una cifra? credo massimo 10 euro massimo 10 euro ci piace ci piace quindi invece dimmi il più economico qual'è stato? 18 euro il più economico 18 quindi siamo sempre su quella cifra 18 20 euro stiamo tu invece il più economico? meno di un euro perché ho comprato i materiali li ho fatti io ah ecco ma stavo a dire meno di un euro che hai pagato le caramelle li hai comprati? meno di un euro perché li hai fatti tu che hai fatto? grazie per i turchini grazie per i turchini li hai fatti tu grande ci abbiamo un'altra artista ragazzi voi invece scrivete qua sotto nei commenti quanto avete speso per il regalo di natale soprattutto da dove state vedendo il video fatelo sapere qua sotto nei commenti noi ci vediamo al prossimo video che ancora non so quale sarà ma ce ne sarà un prossimo video ci vediamo al prossimo video mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale shakari